Il sindaco di Benevento Clemente Mastella e la presidente della provincia Nino Lombardi hanno sottoscritto a Palazzo Mosti il protocollo d'intesa per la riqualificazione di Villa dei Papi che avverrà con le risorse del programma operativo nazionale PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027. 8 milioni di euro ha spiegato il sindaco Mastella per riqualificare uno spazio che abbiamo ereditato come un'area dimenticata che non aveva più nessun valore. A Rione e Pacevecchia generiamo così un polo di rigenerazione urbana mediante il binomio tra Villa dei Papi e la casa di Jonas, la struttura per malati di Alzheimer e bimbi con la sindrome dello spettro autistico. Questo, cioè la mobilitazione di risorse per la città e le idee per migliorarla, è l'unico film di cui siamo registi e attori principali. Il sindaco ha annunciato anche, a seguito di un'interlocuzione con rete ferroviarie italiane, l'inizio dei lavori alla stazione centrale. Partiranno il 15 giugno e saranno impreziositi da un'opera di Paladino che avrà come tema le streghe. Il presidente Lombardi ha applaudito all'iniziativa ed ha annunciato che anche in materia di politiche culturali saranno rafforzate forme di interazione con il comune e in particolare ha ribadito l'intenzione di creare il Museo Egizio di Benevento. Noi utilizziamo Villa dei Papi in connessione e integrazione tra di noi, in maniera complementare, determinando una splendida realtà della città di Benevento, ponendo l'attenzione della nostra comunità. Quindi sarà una forma di presenza là, da parte i ragazzi, le famiglie, per il verde che c'è. Ricostruiremo, secondo regole d'arte che sono prescritte da parte della sovrintendenza, la stessa struttura che c'è, la utilizzeremo in modo migliore. E peraltro renderemo un percorso sul piano del verde che va da Villa dei Papi fino alla casa di Jonas, che sarà la casa dove andranno i ragazzi autistici e i malati di Alzheimer. Quindi sarà una bella cosa anche per loro, un percorso di serenità e di godibilità per quanto riguarda e speriamo anche per la loro famiglia. Credo che il 15 giugno la ditta proprio inizia i lavori, il 15 giugno. Cioè già la ditta sta in essere, insomma, è presente. Hanno ritardato un po' per la semplice ragione che bisognava far firmare o far vedere sotto porre l'attenzione il nuovo Ministero Delegato delle Ferrovie, quindi come tale questo è stato il motivo del ritardo, però insomma siamo avanti in maniera molto spedita, anche perché essendo lavori legati al PNR dobbiamo terminare per il 2026, dopodiché non c'è motivo che possa tenere lontano il riflettore dell'Europa laddove fossimo inade impianti, non tanto noi ma le ferrovie. E là invece metteremo davanti alla stazione questa opera di Palladino e ringrazio il Presidente della Provincia perché tra noi e loro c'è questa complementarietà anche sul piano economico perché altrimenti non ce l'avremmo fatta da soli. Però è una cosa che insomma renderà luce la città. Chi arriva e troverà quest'opera di Palladino, assieme al fatto che tra luglio e agosto noi presenteremo l'attenzione alla presenza di Palladino, che è anche il Ministro dei Beni Culturali, la Ortus Conclusus rinnovato e con la presenza anche di tutte queste personalità e insomma sarà un modo innovativo perché questa è la città di Palladino, del grande Palladino e sarà un motivo di verbo anche speriamo turistico per noi. Il contenuto del protocollo comunque costruisce questo orizzonte per Villa dei Papi, il recupero oggi lo può fare attraverso questa fonte di finanziamento il Comune, noi condividiamo questa struttura neogotica e ci sembra opportuno, doverosa questa sinergia perché recuperare Villa dei Papi, anche il parco e riconsigliarla alla comunità, credo che è questo il compito principale dell'istituzione, Comune e Provincia lo stanno facendo ma soprattutto per esaltarne e diffondere le immagini del nostro patrimonio e il recupero di questa struttura, poi anche la gestione che già è descritta che ha finalità sociali e culturali e quello che poi tra l'altro si aspetta una comunità, si aspettano le famiglie e noi dobbiamo lavorare per riconsignare tutto ciò che è patrimonio e tutto ciò che ci appartiene. Il presidente Renato Parente ha convocato una nuova seduta del Consiglio Comunale da tenersi in modalità mista per martedì 30 maggio alle 9.30 per la trattazione del seguente ordine del giorno, approvazione tariffetaria anno 2023, articoli 151 e 231, relazione illustrativa a rendiconto della gestione 2022, approvazione. Via Libera all'iter per il nuovo piano urbanistico comunale, pubblicata all'albo pretorio la determina a contrarre per l'avvio della procedura negoziata finalizzata all'individuazione del professionista che si occuperà della redazione del nuovo piano. L'assessore Molli Chiusolo lo ha annunciato in audizione con i consiglieri della Commissione Urbanistica, preseduta da Alfonso Martignetti. Il nuovo PUC, spiega l'assessore Chiusolo, si ispirerà ai principi cardine già fissati con la delibera consigliare del 20 dicembre 2022, ovvero la riduzione del consumo di suolo, la rigenerazione urbana ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante il contenimento dell'espansione urbana. Ovviamente si terrà conto anche del lavoro avviato con la variante che ne costituirà parte integrante. Ho intenzione di avviare, insieme alla presidenza del Consiglio, un ciclo di incontri con tutti gli stakeholders della città. Contestualmente stiamo lavorando su una delibera di consiglio comunale nella quale individueremo le aree della città e gli edifici rispetto ai quali non intendiamo applicare gli incrementi volumetrici. Sono soddisfatta, conclude l'assessore Chiusolo, di aver inaugurato questo percorso che, come abbiamo condiviso con il sindaco Mastella, sarà un importante lavoro di squadra. 24 giovani svolgeranno attività di servizio civile presso il Comune di Benevento. Questa attività formativa sarà adempiuta in diversi settori uffici del Comune, tra cui i servizi al cittadino, la biblioteca e i servizi demografici. L'esordio è avvenuto a Palazzo Mosti, dove sono stati accolti dal sindaco Mastella, dal consigliere delegato alle politiche giovanili barbieri e dal dirigente del settore servizi sociali Santa Maria. Il sindaco Mastella ha augurato il loro buon lavoro. Quest'esperienza formativa possa essere viatico di esperienza professionale proficua. Il servizio civile nel Comune rappresenta anche un'ottima occasione per conoscere e toccare con mano i problemi della propria città e l'impegno che si profonde per risolverli. Sei un parrucchiere o sei un estetista? Art Joyer Design Saloon, ricerca personale qualificato. Un parrucchiere ed un estetista per ampliamento organico. Invia il tuo curriculum a goldsrls2020.it o telefona allo 0824 045168 o ancora contattaci al 342 5274535. Se sei un parrucchiere o un estetista, insegui i tuoi sogni. Lavora con noi, ti aspettiamo! Il 2, 3 e 4 giugno torna nella bellissima villa comunale la mostramercato Benevento in Fiore. Protagonisti le piante e i fiori di stagione, le tipicità, i prodotti dell'orto, l'artigianato, le attrezzature, l'arredamento per il giardino e per l'outdoor. I prodotti naturali e biologici, il benessere naturale, l'ambiente, le fonti energetiche alternative. Benevento in Fiore. Vi aspetta dal 2 al 4 giugno 2023 nella villa comunale di Benevento. Desta rammarico, ma non stupore, il fatto che l'ospedale Sampio di Benevento sia tra i 12 peggiori per livello della performance sui 53 presidi sanitari presi in esame dal rapporto a Genas. Non possiamo rassegnarci al lento declino dell'ospedale Sampio che avevamo percepito con nitidezza, salvo poi dover registrare con amarezza una ruvidità di rapporto con il management che si è tradotta in una chiusura al dialogo inconcepibile alla luce dei problemi evidenziati anche dai dati dell'Agenzia per i Servizi Sanitari, così in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. I risultati clinico assistenziali confermano un andamento di declino. Il deterioramento dell'indice di rapporto tra medici e posti letto anche a causa del fenomeno delle dimissioni di massa, le disfunzioni al pronto soccorso e altre criticità che periodicamente sono segnalate da utenti e sigle sindacali confermano un quadro abbastanza scoraggiante. Il management del Sampio ha l'obbligo del dialogo e l'onere di guardare in faccia i problemi. Non ho fatto nulla perché fossimo negli ultimi posti agroatorie, anzi io ho tentato di dare una mano, ma si rifiuta la direttrice dell'ospedale in maniera maleducata sul piano del comportamento istituzionale di vedermi perché l'unica mia intenzione sottovole la sua attenzione è criticità, valutare assieme che cosa fare e nell'interesse della mia comunità. Quindi anch'io sofferti in questi giorni l'ospedale, però vorrei che l'ospedale fosse ottimo nella qualità, nella presenza già medica importante, insomma di fare una cosa che sia complementare a quella richiesta di aiuto che arriva da persone che stanno in difficoltà sul piano sanitario. I dati a Genes non sorprendono, purtroppo. Il collocamento del Sampio tra le aziende sanitarie pubbliche in Italia, peggio valutate da parte della Genes, genera tristezza ed anche amarezza. Lo scrive l'avvocato Nicola Boccalone, rappresentante dell'Assemblea di Territorio del Tribunale del Malato. Bastava una rapida lettura dei dati gestionali da tempo esposti sul sito dell'azienda per rilevare un'evidente curva discendente a decorrere dal 2018 del valore quali quantitativo delle prestazioni sanitarie offerte all'utenza. L'amarezza è ancora più profonda se solo si pensa che da oltre un quinquennio l'intero sistema sanitario regionale aveva recuperato sul piano progettuale e programmatico il favore legislativo e un carico finanziario di significativa importanza. Le precedenti gestioni a quella in essere si sono segnalate per aver addirittura annullato procedure concorsuali avviate. Alla luce di tutte le problematiche, l'Associazione Cittadinanza Attiva Tribunale del Malato ha offerto e continua ad offrire la sua disponibilità a riflettere su come migliorare l'offerta sanitaria, avvalendosi delle esperienze e della professionalità maturate dai non pochi associati, per far leva sul senso di appartenenza e di passione di tanti operatori che quotidianamente si impegnano nel proprio lavoro. Il consigliere regionale vicepresidente della Commissione Lavoro, Turismo e Attività Produttive della Campania, Erasmo Mortaruolo, ha indirizzato un'interrogazione urgente alla Presidente della Giunta, Vincenzo De Luca, e alla Presidente della Commissione Trasporti, Luca Cascone, al fine di conoscere lo stato di avanzamento dei lavori previsti sulla linea Benevento-Cancello e l'effettivo rispetto dei tempi contrattuali. Al contempo il consigliere ha chiesto di aprire immediatamente un tavolo di concertazione al fine di definire in maniera ottimale la gestione del servizio sulla tratta in oggetto nell'interesse degli utenti e dei lavoratori. Prestigioso riconoscimento per l'azienda San Pio di Benevento, a Rimini durante il 54esimo Congresso Nazionale di Cardiologia dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, è stata attribuita la targa d'oro per la ricerca clinica al dottor Marino Scherillo, direttore dell'Unità di Cardiologia e direttore del Dipartimento Cardio-Toracico-Vascolare dell'azienda ospedaliera San Pio. I cantieri parlanti della nuova linea alta velocità alta capacità Napoli Bari hanno aperto le porte a un gruppo di studenti della Facoltà di Ingegneria dell'Università del Salento e a una delegazione dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce. Dopo l'arrivo al campo base di Telese in provincia di Benevento, il gruppo si è spostato alla volta del viadotto in costruzione sul fiume Calore per poi raggiungere l'imbocco di una galleria artificiale. La visita si è conclusa nel cantiere dell'imbocco della galleria di Grotta Minarda in provincia di Avellino dove è in corso il monitoraggio della talpa meccanica. Cantieri parlanti è un progetto del gruppo Ferrovie Statali in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i commissari straordinari di governo e le imprese coinvolte nei lavori. Tutti i cantieri del polo infrastrutturale del gruppo parlano un linguaggio semplice, trasparente ed immediato, condiviso con i territori. Il questore della provincia di Benevento, al termine degli accertamenti esperiti dal commissariato di Telese Terme e delle procedure poste in essere dalla divisione anticrimine della questura, valutato che dalla condotta posta in essere dalle modalità della stessa e dall'indole violenta ed antisociale palesata da tre uomini, è ravvisabile un concreto pericolo per la sicurezza e dunque è messo nei confronti di tre uomini la misura di prevenzione del divieto di accesso agli esercizi pubblici della zona per due anni dalle ore 18 sino alle 6 di ogni giorno. È in programma, a partire dalle ore 15.30 presso l'Unifortunato, la fase iniziale dell'edizione iFactor 2023, nel corso della quale saranno premiate le migliori idee imprenditoriali con due premi da 500 euro. La figura di Davide Sassoli, politico cristiano, mite e coraggioso, è stata al centro dell'incontro organizzato martedì pomeriggio presso la sala a formazione della sede di Benevento, della CSV, il Pignasagno e TS dal Laboratorio per la Felicità Pubblica, in collaborazione con Base Benevento e Acli Provinciali di Benevento. È stata l'occasione per ricordare la figura del Presidente del Parlamento Europeo, scomparso ad inizio 2022, e anche per rappresentare il libro Davide Sassoli, la saggezza e l'audacia, discorsi per l'Italia e l'Europa. L'Associazione Diabetici Italia Meridionale, con il patrocinio del Comune di Benevento, organizzano per il 27 maggio dalle 15 alle 19 la giornata della prevenzione cardiologica. La visita cardiologica con ECG sarà eseguita dalla dottoressa Federica Provenzano, medico specialista nello studio e nelle cure delle malattie cardiovascolari. Prenota il tuo screening al 351-7185-946. È iniziato ufficialmente il nuovo percorso del Benevento Calcio che ha presentato il direttore tecnico Maurizio Carli, che ha siglato un accordo triennale con il sodalizio giallorosso. In sala stampa, assieme al neodirettore, il presidente Oreste Vigorito, che ha voluto fortemente il direttore Carli, chiamato a riorganizzare la squadra e non solo, cercando di cancellare la bruttissima parentesi di questa stagione, culminata con la retrocessione in Serie C. Ascoltiamo le dichiarazioni ai microfoni di TV7. Cominciamo da capo, ma cominciamo con uno spirito nuovo, facendo, per quanto mi riguarda, e spero lo facciate tutti, un esame dei propri errori, se ci sono stati, delle proprie analisi e proviamo a dare una mano a questa società, a questo pubblico, a questo direttore che ci ha messo la faccia e sta venendo qui per aiutarci a fare un percorso, mi auguro, bello e di soddisfazione per tutti quanti. Prego direttore. Sono strafelice, il Presidente è stato gentile, ma lui è stato con me bravissimo, perché mi ha chiamato in un momento difficile per lui, ma anche per me, perché comunque io vengo da un'esperienza negativa, dove ho fatto degli errori, dopo me ne sono presi, dove me li tengo tutti, non ho mai cercato scuse, non ho mai fatto interviste, non ho mai fatto niente, me ne sono stato a casa mia, a tenermeli dentro, perché questo tenermeli dentro mi doveva andare la forza di ripartire, e siccome io cerchiamo un posto che avesse determinate caratteristiche, perché io ho determinate caratteristiche, il Presidente ci siamo parlati in modo veramente schietto, bello, sincero, e credo che anche da parte sua, quando ci siamo dati la mano, perché noi ci siamo dati la mano un po' di tempo fa, io l'ho data in modo convinto, ora cinque giorni e sono qui e credo di aver fatto una scelta giusta, che non vuol dire che magari farò bene, questo non lo posso sapere, ma sicuramente che dentro ho roba positiva da tirar fuori, credo, e dico la verità, io il Presidente ho un difetto, che non riesco a dire bugie, o non parlano, io il Presidente e l'allenatore si è affrontato in modo molto leggero, un po' sulle caratteristiche, ma non siamo mai andati veramente a dire, prendiamo considerazione un nome, nel senso che io ce l'ho in testa, ho le mie idee, ho un certo tipo di fare le cose, quindi vorrei ritornare a fare quello che, non che mi riesce, ma che mi viene spontaneo di fare, quindi sulla mia idea è quella di andare a prendere gente che veda Benevento come qualcosa di straordinario, io sicuramente sono venuto perché per me Benevento è qualcosa di straordinario, non sono venuto in C, non sono venuto, io sono venuto in un posto dove ho sentito un'emozione di venirci, io al Presidente gli ho detto questo, quando mi ha chiamato è stato gentile perché mi ha detto sai la situazione è presente, lei non mi deve dire la situazione, io vengo perché lei la vedo che ha entusiasmo, vedo che lei ha voglia di fare le cose, quindi io giocare in C, giocare in A o giocare in B, a me cambia poco, oggi per il Presidente gli ho detto una cosa, io nella vita vorrei fare questo, se io mi volessi e avesse un sogno che tutti i ragazzi io auguro di poterlo fare, di alzarsi la mattina e di fare quello che ti piace e in più c'è un particolare che lei mi dà anche lo stipendio, quindi io fondamentalmente sono felice di fare questo lavoro e lo devo fare un po' per le mie caratteristiche, io sono se c'è e ci piace, mi prendo un ragazzo magari giovane che viene qui con entusiasmo, che ci dà la mano, che ci alimenta anche a noi l'entusiasmo, però deve essere bravo e ci deve crescere, se poi il profilo che a noi piace meno troveremo allenatori, io credo che da qui al 29 agosto un allenatore si trova. Il Procuratore federale Giuseppe Chinè ha aperto un procedimento in relazione alle modalità di realizzazione nei minuti di recupero della terza rete del Perugia, segnata da Juan nella gara vinta 3-2 contro il Benevento nella 38esima e ultima giornata del campionato di Serie B. L'ipotesi contestata è quella di lecito sportivo, secondo quanto si apprende sarebbe già stato acquisito il video della gara e nei prossimi giorni saranno ascoltati i tesserati coinvolti nell'episodio. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.